Buongiorno amici e amiche di Radio Blu e Tu, il nostro viaggio di approfondimento sulle conseguenze dell'epidemia di Covid-19 prosegue insieme a FederConsumatori APS Rovigo e a un nuovo ospite che ci aiuterà ad addentrarci nelle problematiche con cui i cittadini si trovano a fare i conti in un mondo che negli ultimi 14 mesi è profondamente cambiato. Perché abbiamo intrapreso questo percorso? Perché con delibera di giunta regionale numero 1763 del 22 dicembre 2020 la Regione Veneto ha approvato il programma Interventi per sostenere i cittadini consumatori nel fronteggiare le conseguenze socio-economiche dell'epidemia di Covid-19. Questo sulla base dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000 numero 388 e del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 agosto 2020. L'epidemia di Covid-19 infatti non ha avuto solo delle conseguenze drammatiche di carattere sanitario. Gli effetti indiretti della pandemia si sono ripercossi anche a livello economico e sociale. Una vera e propria crisi ha investito il mondo così come lo conoscevamo, anche sul piano della produzione e della fruizione di beni e servizi, anche quelli essenziali nella vita quotidiana. Per questo la Feder Consumatori di Rovigo, in attuazione del programma di interventi approvato dalla Regione, è impegnata in prima linea dalla parte dei consumatori per aiutarli a fronteggiare e ad orientarsi in questa complessa situazione. Tant'è vero che Feder Consumatori ha aperto lo scorso febbraio su tutto il territorio provinciale una serie di sportelli per essere più vicino ai cittadini. Si trovano ad Adria, a Rovigo, a Porto Viro, a Badia Polesine, a Lendinara e a Santa Maria Maddalena e si avvale della consulenza di professionisti qualificati per aiutare i consumatori ad orientarsi in tutta una serie di problematiche e di ambiti profondamente cambiati. A questo punto vi presento il mio ospite di oggi, è un avvocato, si chiama Egle Boato e con lei parliamo di un tema molto complesso, le truffe online. Buongiorno avvocato. Buongiorno e grazie per l'ospitalità. Ci spiega che cosa sono esattamente le truffe online? Allora, iniziamo col dire che le truffe online sono delle fattispecie delituose riconducibili al più ampio concetto di truffa. Si tratta di un reato previsto dal nostro ordinamento penale all'articolo 640 e punisce chiunque con artifici e raggiri, inducendo taluno in errore, procura se o ad altri un ingiusto profitto con l'altrui danno. Ecco, questa definizione diciamo generica fa sì che all'interno di questa possa essere ricompresa anche l'ipotesi delle truffe online. Sostanzialmente si tratta di truffe che vengono perpetrate con l'utilizzo di metodi e modalità tecnologiche ed informatiche, quindi internet, mail, social network e quant'altro. Si tratta di un fenomeno, quello delle truffe online, sempre in maggiore espansione purtroppo, soprattutto anche in parte dovuto in questo periodo alla circostanza che è nostro malgrado, siamo stati costretti a rimanere più tempo del dovuto all'interno delle nostre abitazioni e che quindi ci si avvale di più della tecnologia, si frequentano più social, più siti internet e quindi è molto più facile incappare in queste truffe online. Giusto per darvi un dato a titolo informativo, nel corso dell'anno 2020 la polizia opustale si è occupata di circa 98 mila casi di truffe e ripeto è un numero che purtroppo è destinato ad aumentare visto e anche considerato che va di pari passo con quello che è il progresso tecnologico e quindi dei vari mezzi di comunicazione. L'intervento di oggi vuole essere ovviamente non esaustivo perché per brevità di tempo è impossibile ma vuole dare un'infarinatura generale agli utenti e ai consumatori in maniera tale di poter evitare di incappare in questi fenomeni appunto di truffe online. Posso farvi un elenco non esaustivo ovviamente di quelle che sono le più comuni tipi di truffe che possiamo incontrare. Ce ne sono di svariati tipi, inizio con quella che secondo me forse è la più tragica anche da un punto di vista psicologico personale che sta prendendo sempre più piede e che sono le truffe cosiddette amorose, le truffe degli appuntamenti online che in alcuni casi possono sfociare addirittura in derive ancora più gravi del revenge porn, dei ricatti veri e propri. Le conosciamo un po' tutte ma un po' tutti però spieghiamo brevemente cosa sono. Sono casi nei quali attraverso social network, mail, chat, facebook per esempio si conosce qualcuno, uno sconosciuto o una sconosciuta, si inizia a intavolare un rapporto, una comunicazione, un dialogo, si entra in confidenza. Cosa succede? che il o la truffatrice inizierà a paventare difficoltà economiche, problemi familiari, problemi di lavoro e a descrivere tutto un essere delle circostanze volte a suscitare l'empattia in quella che sarà poi la sua vittima che o direttamente o indirettamente si sentirà in dovere di dare un contributo economico per poter aiutare appunto questo ipotetico innamorato. Ovviamente questi soldi non andranno certo risolvere problemi che nella maggior parte dei casi nemmeno esistono ma andranno semplicemente a beneficio delle tasche del truffatore. La situazione può notevolmente aggravarsi quando nel corso di questi diciamo dialoghi online c'è anche uno scambio di fotografie, video, magari foto intime o cose di questo tipo. In quel caso il truffatore potrebbe anche puntare sul fatto e sulla circostanza del pudore diciamo di quello che è il consumatore e la vittima e quindi chiedendo una somma di denaro per cancellare queste immagini, questi video compromettenti oppure addirittura per evitare che queste vengano diffuse all'esterno. Un'altra truffa che mi sento in dovere di citare considerando anche il periodo emergenziale che stiamo vivendo sono le cosiddette truffe della beneficenza e delle finte cure. Si tratta di truffe che nascono in momenti particolari in cui c'è stata una catastrofe, c'è un'emergenza sanitaria e in quel caso, nel caso delle truffe diciamo della beneficenza, i truffatori creano falsi siti, falsi conti in cui andare a incamerare il denaro che il cittadino onesto credendo di andare a aiutare il compaesano o il concittadino vittimo di un terremoto piuttosto che di un qualsiasi altro grave disastro va a fornire una somma di denaro che pensa andrà ad aiutare questa causa, che ovviamente in realtà così non è. Idem per la truffa delle finte cure. Abbiamo visto esempi in cui truffatori cercavano di spacciare sul web, su siti più o meno leciti, l'esistenza o di una cura contro il covid-19 o addirittura del vaccino. Inutile dire che anche in questi casi le truffe sono vere e proprie, nel senso che non c'è nessuna cura mircolosa, non c'è nessun vaccino, ma si trattava di una vera e propria fake news, cioè notizie finte volte a captare e a suscitare nel povero consumatore l'idea che con il pagamento di una somma di denaro andrà a risolvere quelli che sono i suoi problemi. Truffe che ovviamente lasciano il tempo che trovano, però il risultato è sempre lo stesso, cioè che la vittima ha un danno economico che non è da considerarsi esclusivo, ma si deve anche considerare quello che può essere poi il danno psicologico che può avere la persona in sé nel fatto di aver prestato la buona fede, aver rimesso del denaro, ma anche proprio di dubitare delle sue capacità di giudizio, che era lo stesso caso che facevamo prima anche per le truffe amorose. Quindi ci sono anche dei risvolti, voglio dire, non solo economici, ma proprio psicologici. Se invece parliamo delle truffe online più conosciute, facciamo sicuramente riferimento a tutti quei casi che hanno a che fare con istituti bancari, carte di credito, carte prepagati e conti correnti. Vengono denominati con delle terminologie inglese phishing, smishing e vishing, che sono parole stranissime ma che alla fine vanno a identificare semplicemente la diversa modalità con cui questa truffa viene effettuata. Phishing tramite mail, smishing tramite messaggio, vishing tramite telefonata. Cosa succede? In questi casi il truffatore, fingendosi l'istituto di credito, per esemplificare, utilizza delle mail o dei numeri di telefono che sembrano in apparenza istituzionali della banca. Quindi il consumatore cade nell'errore, nel pensiero di dialogare effettivamente con quello che è il suo istituto di credito e in questi casi cosa succede? Che vengono paventati problemi di home banking, problemi di sicurezza, codici persi, insomma tutto un meccanismo che ha come unico scopo quello di andare a carpire le informazioni, i PIN, la password del correntista e del consumatore e successivamente della vittima della truffa. In questi casi purtroppo una volta che tra virgolette si abbocca a queste finte messaggi mail telefonate, il truffatore, capito i codici, riesce ad andare a pescare i soldi dai vari conto correnti e purtroppo la truffa si è verificata. C'è da dire che i truffatori sono molto abili da questo punto di vista nel camuffare le loro tracce e utilizzano veramente delle mail, dei numeri di telefono che sono effettivamente quelli che corrispondono a quelli delle banche, ma ovviamente sono craccati, duplicati, non sono sicuramente gli istituti di credito che tra l'altro, apro e chiudo una parentesi, ormai da anni all'interno dei vari siti e delle varie pubblicità che fanno, nella sezione trasparenza dicono costantemente e ripetono continuamente di non fornire mai nessuno codici, PIN, password e di diffidare sempre da chi chiede queste informazioni perché la banca o la posta o l'istituto di credito del caso non chiederà mai questi codici al correntista, quindi diffidate sempre. Altra deriva pericolosa di queste truffe online sono anche i cryptolocker o i ransomware che sono sostanzialmente anche in questo caso messaggi che il consumatore riceve con l'invito a cliccare su un link esterno oppure a scaricare un determinato allegato. Il meccanismo è diverso rispetto a quello di cui abbiamo parlato prima ma il succo del discorso non cambia, attraverso lo scaricamento dell'allegato o il cliccare su questo link indicato si va a finire all'interno di un sito che in qualche maniera riesce a carpire i dati personali quindi PIN, password e quant'altro dei vari utenti e di conseguenza poi entrare nei conti correnti e appropriarsi indebitamente di questo denaro. Ce ne sono molte altre di truffe, ci sono anche truffe di finti datori di lavoro che offrono ipotetici posti di lavoro e che poi offrono dei compensi per esempio che in teoria sarebbero in misura maggiore rispetto a quanto patuito quindi chiedono al presunto lavoratore di pagare la differenza di quanto hanno ricevuto ad esempio sull'assegno. Ce ne sono una molteplicità veramente infinita di queste truffe anche perché il denominatore comune di queste truffe e non solo di quelle online è proprio l'ingegno e la fantasia di quelli che sono i truffatori che riescono di volta in volta a trovare nuove modalità e nuovi modi per riuscire a carpire la buona fede del prossimo. Ecco, questo non voleva essere terrorismo psicologico, chiariamoci voleva solo essere una disamina quanto più ampia possibile con i tempi che abbiamo a disposizione per dare anche adesso dei suggerimenti pratici e cioè cosa possiamo fare per difenderci da queste truffe? Sicuramente la prima regola è quella di prestare attenzione, di essere prudenti e in linea di massima di diffidare da richieste strane. Verificare sempre la fonte da cui queste eventuali richieste derivano e nel verificare questo, per esempio controllare se il sito è veramente autentico se corrisponde al sito della banca piuttosto che fare un controllo incrociato che potrebbe essere di questo tipo se ricevo un messaggio in cui l'ipotetica banca che ripeto non è una banca ma è il truffatore che si spaccia da banca mi chiede dei codici io per sicurezza magari manderò una mail per esempio al mio istituto di credito chiedendo ma è vero che mi stai chiedendo questo quindi utilizzando un canale diverso rispetto a quello con il quale sono stato contattato diffidare sempre dal cliccare su link esterni o scaricare allegati dei quali non si accerti della provenienza proprio per il motivo di cui dicevamo prima perché molto facilmente potrebbe capitare appunto che ci troviamo in un'ipotesi di truffa apro e chiudo una parentesi perché prima l'ho solo citato il cosiddetto virus cryptolocker è una bestia molto ma molto difficile da sconfiggere perché se si scarica questo allegato il virus riesce a criptare tutti i file del computer o del telefono quindi io non sono più in grado di vedere cosa ho dentro e di solito il truffatore cosa fa? chiede un riscatto, di solito un pagamento in bitcoin o in moneta elettronica dicendo se tu non mi paghi io non ti sblocco i dati e se tu non mi dai questo denaro io i dati te li cancello ora se capita al consumatore che nel computer ha solo le foto della vacanza al mare il problema per carità dà fastidio però ha una risonanza diciamo limitata ma se capita anche per esempio a un professionista o al computer per esempio di un'impresa cioè vedersi sparire tutti i dati dell'attività e quant'altro diventa un problema e in quei casi lì purtroppo c'è anche qualcuno che cercando di tra virgolette farsi giustizia da solo paga questo riscatto ora il consiglio che posso darvi è quello sicuramente di non cercare di agire da soli ma se dopo aver fatto tutte le verifiche del caso che dicevamo prima la prudenza, evitare di dare i codici, evitare di cliccare, di scaricare, controllare, informarsi fare subito le segnalazioni al servizio antifraude del proprio istituto bancario se nonostante tutte queste accortezze siamo stati così sfortunati che abbiamo subito una truffa l'unica cosa da fare è fare denuncia alle autorità e rivolgersi eventualmente a dei professionisti che possono essere gli avvocati, possono essere anche gli investigatori privati se del caso ma comunque non cercare di agire in proprio perché purtroppo certe volte anche un po' offuscati dal sentimento del momento si rischia di andare a complicare una situazione che magari si sarebbe potuta risolvere in altro modo se ho ancora due minuti vi spiego solo cosa succede nel caso di truffe in cui attraverso l'acquisizione in debit dei PIN, delle carte di credito vengono prelevati dei soldi dal conto, dal conto corrente, dalla carta e quant'altro cosa succede? allora il consiglio è sicuramente avvisare immediatamente la banca possibilmente per iscritto, per cui una mail o una PEC fare subito e compilare il modulo di disconoscimento delle operazioni che di solito viene fornito dal proprio istituto modulo attraverso il quale semplicemente si dice no io non ho effettuato questa ricarica, io non ho autorizzato questo bonifico io non ho dato questi soldi al signor Mario Rossi dopodiché ovviamente fare subito denuncia all'autorità competente alla polizia postale, ai carabinieri o chi per esso cosa succede? la banca inizierà subito un meccanismo di controllo al suo interno in un primo momento restituirà le somme sottratte indebitamente al correntista salvo poi riaccreditarsene qualora a seguito delle indagini svolte all'interno della banca verifichi che questo istituto non ha nessuna responsabilità cioè vale a dire il correntista è stato truffato però se c'è una colpa della banca perché per esempio c'era una falla nell'home banking, nell'applicazione del telefono allora la banca ne risponde e giustamente lascerà i soldi nel conto corrente del correntista se viceversa è stata proprio colpa del consumatore che ha dato il suo opinione la carta di credito al primo che ha visto passare per strada alla banca ovviamente non può prendersi delle responsabilità per dei comportamenti sconsiderati e quindi andrà a riprendersi la somma che aveva in un primo momento accreditato qualora dovesse verificarsi una situazione di questo tipo e la vittima, il correntista in questo caso o il nostro consumatore si senta comunque nel giusto e quindi dica io comunque ho subito questa truffa e secondo me c'è una responsabilità della banca si possono utilizzare due strade il primo che è il ricorso all'ABF cioè l'arbitro bancario finanziario oppure o in alternativa il ricorso all'autorità giudiziaria però in ogni caso mi preme sottolineare che sicuramente la regola prioritaria è quella della prudenza e nel dubbio di fidare che non si sbaglia mai e soprattutto farsi assistere se del caso dalle autorità competenti e da professionisti competenti perché certe volte cercare di sistemare le cose da soli va a creare più danni in una situazione che magari avrebbe potuta essere risolta non dico facilmente però andarla a complicare sicuramente non aiuta grazie avvocato grazie a tutti